Revisore Ho guardato centinaia di TED Talk nella mia vita, ma non avrei mai pensato di tenerne uno. E non sono proprio dove avevo programmato di essere. Alzi la mano chi di voi è nella situazione personale, famigliare o fisica o professionale, lavorativa ed economica, che aveva pianificato anni fa. Mi chiedo quindi se chi siamo, dove siamo, sia il risultato di una pianificazione, di un metodo, di un controllo attento delle nostre azioni e delle relative conseguenze, oppure sia il risultato di una serie di reazioni ad avvenimenti casuali che ci sono successi. Siamo padroni del nostro destino. Siamo padroni del nostro destino. È un mantra che ci siamo sentiti ripetere tante volte, in diversi contesti. Avere la convinzione che la nostra vita non sia lasciata al caso, ma siamo noi ad averne le redini, indubbiamente ci rassicura. Siamo noi il padroni del nostro futuro. Siamo noi che decidiamo il nostro futuro con la nostra volontà, con la nostra tenacia, con la nostra bavura. Ma è davvero così? Perché a me invece a volte sembra di vivere una vita come se fosse una cosa in equilibrio su una fune. Avete presente quei giochini, quegli endless anni che vanno tanto di moda adesso? Dove l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Un imprevisto lavorativo, un imprevisto di salute, un imprevisto logistico, anche piccolo, anche positivo. Non sto parlando necessariamente di grandi tragedie. Arriva l'imprevisto e saltano i piani. Vengono disattese le mie aspettative. E quindi la prima domanda che mi faccio, il primo dubbio è sempre «Ho sbagliato qualcosa? Potevo prevederlo?» E poi l'ansia da ripianificazione. Adesso cosa faccio? La necessità di riprendere subito il controllo. Ora, questa pianificazione, imprevisti, ripianificazione, è un lavoro psicologico immenso, che ci occupa tutti i giorni. A me genera stress, personalmente mi si forma un piccolo mattone qua, sul petto, che mi impedisce di finire bene il respiro. Mi sento un po' chiuso in gabbia. E allora mi metto di nuovo in discussione. Possibile che non riesco a godermi quella quotidianità che ho faticosamente costruito in tanti anni. Possibile che non riesco a vivere la mia giornata con maggiore leggerezza. E quindi inizio a cercarmi delle evasioni o di spazio solo per me, quelle due ore che ti prendi solo per te nella giornata. Inizio a sognare ad occhi aperti, le leggende metropolitane. L'amico che ha preso la famiglia e ha aperto il ciringhito sulla spiaggia del paese tropicale, dove costa tutto pochissimo, c'è sempre il sole, i bimbi giocano scalzi nella sabbia. Ma se pianificare mi genera questo stress, e lo stress mi genera infelicità, voglia di evadere. È sbagliato pianificare? È sbagliato pensare alle conseguenze delle nostre azioni? È sbagliato pensare a chi vogliamo essere nei diversi ruoli della nostra vita? Uomini, donne, genitori, figli, amici, colleghi. È sbagliato impegnarsi per realizzare i nostri sogni? Evidentemente non è così. È una semplificazione che non vale. Non vale perché il mondo di oggi è disordinato, è frammentato. È guidato da una tecnologia che a volte sembra superare i nostri limiti di pensiero e di azioni. Una tecnologia affascinante, a volte inquietante, la usiamo per relazionarci, la usiamo per osservare, per osservarci. La usiamo per scegliere continuamente. Scegliamo cosa ascoltare, cosa leggere, cosa guardare, come viaggiare. Scegliamo continuamente e nello scegliere abbiamo la sensazione di avere il controllo. Poi ci guardiamo intorno e vediamo, sì, un mondo controllato, ma condito da insicurezza, nevrosi, disarmonia, perché viviamo in un mondo complesso, perché è difficile orientarsi in un mondo complesso. E complesso non vuol dire complicato, intendo complesso nel suo significato originario. Complesso significa intrecciato insieme, è un concetto di molteplicità e unità al tempo stesso. È un mondo che sia globale, sia locale, allo stesso tempo. Un mondo che va veloce, un mondo che è accelerato, ogni cosa è un sistema. Sembra quasi che il mondo si sia evoluto e si è entrato nell'era della complessità e la nostra mente ancora no, che noi stessimo arrancando dietro questo mondo. E quindi? Fino adesso vi ho buttato lì qualche pensiero, un po' di domande, qualche banalità, un po' di ansia. Effettivamente se ci mettiamo a guardare questo mondo e a pensare, c'è il rischio di rimanere paralizzati. Io li capisco bene, i giovani di oggi, quelli che non hanno voglia di alzarsi dal letto, quelli che non hanno voglia di uscire di casa. Solo che, io ho due figlie piccole, cosa le racconto? Avevo bisogno di un'ispirazione, di un'idea. L'ho cercata e forse l'ho trovata nel mondo dello sport. Lo vivo tutti i giorni e racconta delle storie straordinarie. E credo che lo sport sia in grado di trasmettere dei valori e delle emozioni che sono uniche. Vi siete mai chiesti perché le grandi storie di sport ci coinvolgono così tanto? Perché ci appassionano così tanto? Due cose. Sono autentiche e sono imprevedibili. Provate a guardare un atleta nel momento della sua gara, nel momento della sua partita, nel suo momento. Osservate per un attimo il suo volto. Guardate la tensione, l'agone che ha in quel momento. È autentico, è reale. Lo sa che non ha un secondo ciak, che non ha un replay. E sa anche che il risultato è imprevedibile. Perché ci sono statistiche, ci sono analisi, ci sono sondaggi, ci sono calcoli complessi. Ma alla fine il risultato è sempre incerto. E non è forse questo quello di cui stiamo parlando. Non è così la nostra vita quando affrontiamo la complessità del mondo? È vita vera ed è imprevedibile. Allora mi sono detto, guardiamo come fanno loro. Come fanno i protagonisti di queste storie straordinarie che guardo con tanta ammirazione ad affrontare l'inevitabile imprevedibilità delle loro sfide? La pressione dei media, le aspettative dei fan, l'attimo che li paralizza prima di entrare in campo, ce la vanno anche loro? Cosa fanno? Improvvisano? Semplificano? Lasciano che sia il caso a decidere la vittoria o meno? Oppure hanno tutto sotto controllo? E sanno esattamente quale sarà il risultato? Beh, nessuna delle due. O meglio, entrambe. Si preparano al meglio, si allenano, agendo su tutte le leve su cui hanno il controllo, l'alimentazione, la preparazione fisica, l'iposo, le analisi tecniche, la tecnologia, e poi danno il massimo, senza risparmiarsi, senza lasciare niente. A volte vincono, a volte perdono. Per bravura degli avversari, per un imprevisto, per un errore. Ma possono essere frustrati, possono essere stressati, se sanno che si sono preparati al meglio e poi hanno dato il massimo nel momento della performance. Ecco, secondo me, lo sport ci dà gli strumenti per affrontare questa complessità. o quantomeno ci dà un'ispirazione. Allenarsi tutti i giorni, dando il meglio di noi e cercando di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, con curiosità, senza pigrizia. E poi però essere in grado di affrontare ogni singolo evento della nostra vita, ogni momento, con consapevole leggerezza. Disciplinati, ma non severi con noi stessi. responsabili, ma non in colpa. Coraggiosi nell'affrontare una nuova sfida, nell'uscire dalla nostra zona di comfort, senza essere bloccati dalla paura di fallire. Perché il fallimento non esiste. Il fallimento è un tentativo che non è andato a buon fine. esistono le sconfitte, esistono le delusioni, esistono le ferite, anche profonde, quelle che ti lasciano il segno. Ma bisogna essere consapevoli che queste ci servono soltanto a migliorare, a crescere, a essere più forti nel momento in cui affronteremo la prossima sfida. Ecco, questa idea, questo approccio, mi è piaciuto fin da subito. Mi ha tolto un pezzettino di quel peso che avevo qui. E sto cercando di applicarla nella quotidianità, nel lavoro, oggi, su questo palco, con un successo più o meno, insomma, sto iniziando. E poi ho provato a portarla in un progetto che andasse al di là di me stesso, che lasciasse il segno. E insieme ad alcuni soci e amici abbiamo iniziato un'avventura che abbiamo chiamato Acto, che significa agisci, play, in esperanto. E con Acto abbiamo due obiettivi. Quello di offrire ai giovani dei paesi emergenti una formazione professionale, di qualità e accessibile. E poi di offrire loro dei posti di lavoro, delle opportunità di lavoro concrete nel mondo dello sport. Siamo convinti che l'educazione sia una delle sfide più importanti per un futuro sostenibile del nostro pianeta. E crediamo nei valori dello sport. E vogliamo fare la nostra piccola parte. Acto è stata lanciata lo scorso anno, a ottobre, a Capoverde. E quest'anno arriverà in Portogallo e in Brasile, coinvolgendo migliaia di giovani e offrendo centinaia di possibilità di lavoro. Ce la faremo? Mi piacerebbe potervi dire che sono sicuro. Ma il futuro è imprevedibile. Intanto ce la mettiamo tutta e ce la giochiamo. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie Grazie a tutti